L'operazione è basata sulla identità e sui valori comuni, questo chiaramente agevola tutta la parte organizzativa, addestrativa, scambio di informazioni e di esperienze e è probabilmente agevola anche sotto il profilo operativo. Per la gendarmeria è molto importante avere delle relazioni come noi abbiamo, sono veramente delle relazioni familiari, perché noi progressiamo in apprendendo dei carabiniers, e spero che noi apprendiamo anche dei carabiniers a partir di ciò che noi facciamo in gendarmeria. E soprattutto, come lo diceva Théo tutto a l'ora, è assolutamente indispensabile di avere questa capacità di reagire immediatamente quando abbiamo delle urgenze operazioni. Grazie. 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 Grazie.